Infine, io credo che si debba guardare, e concludo, signor Presidente, si debba guardare a quell'ordine del giorno che io personalmente ho presentato, insieme ad alcuni colleghi siciliani, che riguarda il prezzo del prodotto. Abbiamo detto che non è una cosa seria, semplice, non è una cosa facile da fare, però va fatto questo lavoro, lo deve fare il Governo nazionale, che ha già dato alcuni significativi segnali alla nostra comunità, togliendo l'imo agricola, riducendo l'IRAP. Bisogna mettere in collegamento il prezzo del prodotto sul campo, nel campo agricolo, e poi vedere quando arriva nel mercato questo innalzamento che ha, al momento in cui poi arriva nella distribuzione, bisogna fare una verifica e vedere là dove c'è l'effetto speculativo, perché il produttore è quello che paga il prezzo maggiore. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3, 2328, dei deputati Gagnarli ed altri, concernente iniziative volte a prevenire i rischi connessi dall'uso di armi da caccia e misure per il contrasto del fenomeno del bracconaggio. Il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione, a facoltà di rispondere. Fermo restando le funzioni di pubblica sicurezza e adeguamento normativo in materia di utilizzo di armi per l'attività venatoria in capo al Ministero dell'Interno, con riguardo alla proposta di abbregazione dell'articolo 842 del Codice Civile, mi preme evidenziare che l'attuale organizzazione della caccia in Italia risulta essere una gestione mista, pubblica e privata. Infatti, nel quadro della legge nazionale di riferimento, da un lato la funzione legislativa è demandata alle Regioni, ma dall'altro, sin dal 1992, sono stati istituiti gli organi di gestione tecnica, gli ambiti territoriali di caccia, gli ATC e i comprensori alpini di caccia. Tari organismi sono retti da un comitato di gestione costituito dalla rappresentanza delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, nonché dai rappresentanti degli enti locali.